Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, grazie alla stampa, agli amministratori presenti, alle associazioni presenti. Presentiamo finalmente, sono veramente felice di farlo ovviamente, questa sesta edizione di Alica Festival, sesta edizione di questo progetto lungo il sentiero dell'Alica, presentato e organizzato dall'associazione Il Borgonlus e con un insieme di associazioni che collaborano attivamente per la realizzazione di questo festival e con i comuni dell'area grecanica. Festival che rientra dai festival regionali perché appunto viene sostenuto anche economicamente dalla regione Calabria e quindi siamo qui per presentarvi il programma, un programma che in realtà è già partito con un'anteprima del festival con il mercatino del Natale dell'area grecanica a Kondofuri Marina dove siamo già stati presenti e che si concluderà come festival il 31 dicembre nella serata di Capodanno, con il grande concerto di Capodanno e poi con il dopo festival per non farci mancare nulla come si suol dire domenica 8 gennaio. Prima di cominciare a presentare il programma io volevo dire un semplice ma grande grazie a tutte le persone che in questi anni e in questi mesi per questa sesta edizione hanno collaborato con il festival, alla squadra che quest'anno mi ha dato una grande mano d'aiuto e che ha lavorato fianco a fianco con me, a Totò, Anna e a Filippo, a tutte le persone che hanno lavorato attivamente e fattivamente per la realizzazione di questa edizione. Ve la presento in breve, vi racconto quello che faremo in queste settimane che sarà qualcosa di secondo me meraviglioso perché andremo a scoprire il territorio grazie a delle escursioni, grazie al trekking, scopriremo questo monastero basiliano, questa abbazia abbandonata nell'entroterra inghiottita dalla natura ma che resta ancora lì in piedi e che ci aspetta che è l'abbazia della Madonna della Lica, quel di Palizzi sopra Pietrapennata. La raggiungeremo in trekking il giorno 26 dicembre partendo da Pietrapennata alle 10. faremo anche delle altre escursioni, delle visite guidate a Brancaleone Vetus e a Bruzzano Vetere, quindi ci sposteremo anche nella Valle degli Armeni. Festival che quest'anno sarà presente anche oltre il territorio della provincia di Reggio Calabria e oltre l'area grecanica con un concerto, un evento di musica grecanica che va al di fuori dei confini a Scigliano in provincia di Cosenza, quindi nella Presila, ci spostiamo giù al nord, come si suol dire. I concerti sono tanti, sono 17 concerti in tutta l'area grecanica, 22 eventi, non solo i comuni centrali coinvolti ma abbiamo cercato di andare a spostarci anche nelle frazioni che sono quelle che alle volte paradossalmente sentono di meno le festività e il Natale, non per una mancanza di attenzione ma per le vicende e per i fatti che hanno susseguito anche gli anni, vuoi lo spopolamento, vuoi allontanarsi dall'entroterra verso la marina della popolazione. Noi invece vogliamo un pochino invertire la rotta, andare a riscoprire, a riconquistare moralmente, culturalmente, artisticamente questi paesi e queste città grazie alla musica. Ci sarà il concerto domani a Saline Ionica alle 21.30, qua vi do un'informazione che mi è giunta poche ore fa che per problemi di salute, doveva esserci il gruppo di Taranta Ionica, per problemi di salute loro non ci potranno essere, ovviamente faccio i migliori auguri, non mento nello specifico e nel dettaglio alla persona che ha avuto questi problemi, ci sarà un nuovo gruppo che si chiamano i nuovi Tarì, sempre a Saline Ionica domani alle 21.30 e che comunque sono uno dei gruppi facenti parte di Alica Festival e che quindi alleteranno in maniera egregia la serata. Passeremo anche dalle scuole, martedì 20 dicembre alle 10 con Sound Stories, uno storytelling sulla storia della nascita della musica, dalla musica dei ritmi tribali a quella liquida che oggi ascoltiamo col cellulare tramite YouTube, tramite tutti questi programmi di streaming audio, un po' per raccontare come è cambiata la musica e come siamo cambiati anche noi. Giovedì 22 saremo a San Pantaleone con il concerto dei Nuova Sinfonia, a Staiti lo stesso giorno alle 21 con l'Anna Larizza Ensemble, venerdì 23 a Roccaforte del Greco alle 21 le Letringali e Taranta Ionia Project, un live all'interno così se avete paura del freddo ci potete andare tranquillamente lo stesso perché si starà veramente bene. Come dicevo il giorno 26 il trekking, poi a Branca Leone Marina alle 19.30 i Legatura Rock, la sera alle 21.30 a Bova nella Cora ci sarà il concerto dei Cardia, martedì 27 a San Lorenzo Marina alle 18 i Quattro Quarti e a Palizzi Marina alle 21.30 il gruppo musicale dei Versud. Mercoledì 28 ci sarà la data come dicevo a Scigliano in provincia di Cosenza con la musica grecanica e a Melito ci sarà la Notte Magica Melitese con il concerto di Ciccio Nucera e dei Cumelca. Giovedì 29 a Masella di Montebello i Trigitani, poi sempre giovedì 29 a Staiti alle 20 la Corale Polifonica Don Ruggero Coin diretto dal maestro Aldo Gurnari e a Bagaladi alle 21.30 i Eliacos, come vedete un programma c'è tanta 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 carne sul fuoco. Venerdì 30 a Condo Furimarina alle 21.30 il concerto dei Calavria e poi chiudiamo l'anno a Rugù di nuovo alle 23.30 con il grande concerto di Capodanno, il grande Capodanno grecanico in cui si esibiranno due gruppi Antonio Grossi e le Muse del Mediterraneo e Populare. Anche qui questo spettacolo come tutti gli altri li possiamo realizzare grazie al forte contributo non solo logistico delle amministrazioni comunali dell'area grecanica grazie alle quali riusciamo a realizzare questo festival. Quindi in questo momento estendo il mio grazie a tutte le amministrazioni comunali che hanno creduto in questo progetto e che lo sostengono attivamente e fattivamente e non solo. Il dopo festival martedì 3 gennaio a Bova Marina ci sarà al Museo Agropastorale dell'area ellenofona in piazza Municipio una notte al museo che è una manifestazione un po' particolare. Ci sarà una mostra fotografica, ci sarà una degustazione no gastronomica e tante tante altre cose. Una visita guidata ovviamente al museo che è molto bello perché è uno spazio urbano che era in disuso e che è stato recuperato da dei volontari con dei grossi sacrifici e un grosso ed importante impegno. Venerdì 6 gennaio ancora a Bova Marina alle 18.30 all'Auditorium Tempio della Musica, Fabio Macagnino e Massimo Cusato Live e poi concluderemo domenica 8 gennaio con l'escursione a Brancalone Vetus e nella Valle degli Armeni a Bruzzano Vetere. E qui ringrazio anche por Patima Trekking e Calabria Experience, le prologo di Brancaleone e di Bruzzano, l'Istituto Superiore Euclide, mi ero dimenticato di ringraziarli prima, e il Comitato Civico Procondofuri con il quale abbiamo realizzato il mercatino di Natale che ci sono stati molto vicini e che noi sosteniamo con forza per la bellissima attività che realizzano. Inoltre un ultimo grazie a Paese Albergo Diffuso dell'area grecanica che ci consentirà e consentirà a chi intende venire a trascorrere le vacanze nell'area grecanica da fuori di poterlo fare spendendo anche poco e vivendo nei borghi dell'area grecanica. Io ho concluso perché ho parlato anche abbastanza, cedo la parola a voi, uno degli amministratori, consigliere metropolitano Pierpaolo Zavettieri e ti ringrazio pubblicamente ancora una volta per il sostegno in questi anni anche da consigliere provinciale all'Arica Festival. Faccio d'apripista degli amministratori per il solo motivo che questo festival è nato da una mia intuizione, non so se è positiva o questo lo diranno le persone, il territorio, una mia intuizione nel senso che ho sempre seguito il nostro Palearizza che è un festival che ormai è riconosciuto anche a livello nazionale, anche per l'attività che ha svolto ha avuto dei riconoscimenti ministeriali. Il Palearizza che io ho seguito dalla sua prima edizione, da ragazzo, avevo 25 anni la prima edizione, praticamente caratterizzava questi eventi solo in estate. Siccome ho riscontrato, come lo possiamo fare tutti e come l'avremmo fatto tutti, che il periodo che va da fine novembre a gennaio è un periodo in cui il clima qui da noi è, storicamente ormai io non studio, non sono uno che studia il clima o comunque non sono un esperto neanche di fisica, in nessun caso potrei capire come agisce il tempo in anticipo, però storicamente ho registrato che 20 giorni di buon clima qui da noi ci sono e ho voluto pensare qualcosa che destagionalizzasse gli interventi culturali finanziati dagli enti pubblici, perché di questo si tratta. Io ho iniziato questa cosa quando il primo anno da consigliere provinciale allora mi ritrovai a dover optare nella ripartizione che veniva fatta per i comuni che chiedevano eventi culturali per il Natale a proporre all'assessore a ramo del tempo e al Presidente della provincia del tempo a proporre un'iniziativa che calendarizzasse degli eventi per evitare che ci fossero poi sovrapposizioni di eventi nei comuni. Questo è stato il primo stimolo, il secondo è che una regia unica portata avanti in un territorio può fare anche degli approfondimenti culturali che vadano al di là del semplice spettacolo seppur legittimo, dignitoso, che ogni amministrazione per dare la festa al proprio popolo vuole regalare. Quindi una regia che funzionava in quegli anni, forse un po' di più in quegli anni per il Paliarizza, ma non è una critica, anzi si spera sempre in meglio e ho pensato che potesse essere una ricetta valida. In quel caso, vedendolo forse un po' abusivamente, perché poi l'associazione del Borgolus ha fatto tutto il resto, ha presentato un progetto, io ne ho scelto uno e l'ho evidenziato all'amministrazione provinciale, quello che mi sembrava il più credibile, ma poi hanno fatto tutto loro. Io in questo senso poi negli anni l'ho vista come una sorta di figlioletto, un festival, domani magari non faccio più politica, come il compianto senatore Sisinio Zito che si è occupato per anni del roccella jazz in modo egregio portando artisti internazionali, ognuno nella vita non fa solo il proprio lavoro, io sono insegnante a scuola, se domani non farò più politica, ma anche nelle ore di tempo libero potrò scegliere se o zappare il mio orticello oppure se dare una mano in questo caso a Silvio, il direttore artistico, battuta a parte è stato questo il mio legame con Anica Festival, che nei cinque anni si è protratto anche con un sostegno finanziario. Noi o 10 o 15 o 20 mila euro di bilancio le abbiamo spostati sempre dalla voce cultura che era destinata a spettacoli random, spettacoli dati così a pioggia, le abbiamo spostati su mia indicazione, alcune volte proprio con emendamento in consiglio provinciale, quindi in contrarietà perché alcuni alti e bassi che ci sono nelle amministrazioni, l'ho sempre garantito. Quest'anno la provincia non c'è più, il mio amico direttore del borgo ha presentato il progetto con la sua abilità progettuale e praticamente è stato accolto anche in una tempestività assoluta dalla regione Calabria, tempestività che poi purtroppo per la farraginosità delle graduatorie, dopo essere stato selezionato tra agosto e settembre, ora non ricordo bene il periodo, ha firmato la convenzione solo pochi giorni fa. Questa è una cosa che dico per giustificare un po' tutta la struttura del festival. Se oggi non siamo in anticipo su alcune cose come amministrazioni comunali e immagino varrà anche per il direttore artistico che non è voluto entrare nel merito di questa vicenda è perché la regione ha consentito la firma della convenzione solo qualche giorno fa. Per cui di necessità si cerca di fare virtù, la maturità delle amministrazioni comunali si è dimostrata ottima nello sposare questo tipo di attività. Del resto le amministrazioni un vantaggio o piccolo o medio o grande lo traggono perché diciamo comunque una parte di finanziamento viene assolta anche rispetto alle attività che erano state pensate. Queste attività sono state messe in rete magistralmente dal direttore artistico che ha dovuto fare in pochi giorni salti mortali per coordinare le attività e quindi si è creato un insieme che rappresenta sia le attività culturali o parte di queste che i comuni volevano espletare e fare ma rappresenta un progetto globale che appunto non fa cazzotti al suo interno tra un'attività e l'altra ma in modo organico porta avanti un'idea, un progetto che ormai è la sesta edizione e potrebbe rappresentare visto che oggi si acquisisce anche il credito di grandi eventi finanziato alla regione quindi una sorta di curriculum del festival per un altro anno e quindi riconoscere in questa attività appunto qualcosa di strutturato che nel tempo può trovare il supporto sempre maggiore delle nostre amministrazioni. Per capire per il pubblico che ci seguirà in altre forme dai giornali o dalla televisione il festival oggi diciamo si porta al rango di grandi eventi e di manifestazione riconosciuta più che negli altri anni e pertanto sarà legittimato il direttore artistico e l'associazione il Borgù Onlus tanto quanti i comuni che ne vorranno collaborare a iniziare a parlarne già da gennaio 2017 per cui nell'ambito di questo macro contenitore sapere che l'assessore al ramo di merito piuttosto che il vice sindaco e il sindaco vogliono creare questa sinergia e questo diciamo arricchimento di contenitore. L'amministrazione di Contofuri le altre 13 amministrazioni che ne hanno fatto diciamo tesoro di questo regime di cofinanziamento con proposte e con attività che partono da gennaio possono costituire anche la base per un rifinanziamento per il 2017 in una forma più sicura più guidata e anche più legittimata oggi il direttore artistico che domani per carità potrà essere un altro io potrò non essere il sindaco di Rocudi e così via anche gli altri amministratori saranno legittimati quando escono con la patente Alica a dire si sta costruendo il contenitore per l'anno 2017 e Alica rappresenterà un nome un brand un marchio che appunto sia anche nel percorso identitario che la nostra area grecanica negli ultimi anni sta facendo e anche in modo egregio rispetto al passato quando non c'era per niente la logica della condivisione dei comuni quindi in parte è una colpa che noi possiamo rivolgere a noi stessi perché alcuni di noi erano già amministratori o ai predecessori in parte non non è una colpa ma era proprio una filosofia che diciamo non vedeva questa e questo campanile più ampio nel raggio appunto dei 13 barra 16 comuni dell'area grecanica quindi io nel ringraziare appunto Silvio come direttore artistico l'associazione del Borgolus e tutte le ringrazio diciamo ringrazio anche le altre amministrazioni come se fosse una cosa mia anche se io al pari degli altri diciamo sono uno dei partner e infine e infine ringrazio anche perché questo è stato un limite è stato un limite anche della tempistica della convenzione regionale il mancato coinvolgimento delle associazioni che storicamente avevano supportato il festival quando non c'era nessun comune attivo se non Condofuri e forse altri due Bova mi pare Bova e Condofuri perché erano tutti sciolti per infiltrazione mafiosa e il che ha consentito lo svolgimento cioè diciamo lo svolgimento del festival è stato consentito solo dal supporto delle associazioni quindi qui c'era il circolo Meli e a Condofuri c'era sempre il comitato civico Pro Condofuri e negli altri comuni a Bova Marina c'era l'associazione aria pulita e tante altre che oggi la vallata della Mendolea a Condofuri tante altre che mi sfuggono ma voglio invitarle ora pubblicamente tutte queste associazioni che a causa di proprio contingenza non sono state coinvolte nella fase organizzativa di voler essere vicine ancora al festival per questa edizione con la partecipazione che è ancora tutta aperta è bella da vivere e per l'edizione del 2017 per la quale io lancio un appello da oggi a fornire delle idee perché al di là dei finanziamenti pubblici comunque costruire in rete è sempre un vantaggio quindi i 1000 euro che spende Rogudi o i 2000 euro che spende Rogudi o che spende Melito di cofinanziamento domani in assenza di finanziamento possono essere sempre gestiti in rete all'interno di un cartellone unico che sia un marchio d'aria che si unisce a tutto ciò che è la nostra storia quindi grazie e mi scuso ovviamente se l'ho fatta lungo Grazie, io senza aggiungere nulla cedo la parola a Patrizia Chea, Comune di Melito Grazie, grazie per essere presenti qui, grazie per averci invitato, per averci coinvolto in questa meravigliosa avventura Io ovviamente ho condiviso tutto il discorso fatto da Pierpaolo perché capisco il senso di voler ricostruire una storia del Festival Alica Intanto porto i saluti del Sindaco che non è seduto qui al tavolo semplicemente perché è impegnato in un'altra importante riunione e c'è la presenza che ringrazio personalmente del Vice Sindaco che attesta quanto l'amministrazione abbia tenuto e abbia cercato di supportare l'intera manifestazione Io aggiungo poco perché effettivamente il concetto che probabilmente deve passare come messaggio importante sì nell'organizzazione del Festival Alica ma soprattutto nell'organizzazione di eventi vari e che lavorare in rete consente di dare, di promuovere maggiormente i nostri territori e di dare qualcosa in più alla gente che ci circonda e che ci dà fiducia Questo perché? Perché di fatto noi possiamo sederci qui a ragionare sull'Alica Festival anzi ad arrivare a presentare qualcosa, a condividere questo evento grazie al lavoro che c'è stato dietro veramente in brevissimo tempo e lo so perché l'ho vissuto personalmente in stretto contatto con Silvio che ringrazia a nome suo e a tutti quelli che hanno lavorato dietro questo progetto nel giro di poco noto con piacere vedendo ufficialmente per la prima volta il calendario che è riuscito ad organizzare, sì col supporto dei comuni, delle amministrazioni, della regione e quant'altro però il lavoro pratico, tecnico, quello realmente che oggi noi vediamo lo fa veramente Alica l'associazione è riuscita ad organizzare un mese intenso di manifestazioni che tra l'altro vanno ad evidenziare e a promuovere sempre di più le nostre tradizioni perché leggo e vedo, noto con grande piacere che passiamo dalle visite guidate alle mostre fotografiche alla rilustrazione o a dei concerti di musica popolare che fanno emergere di più ancora quella che è la nostra tradizione e poi vedo che si abbracciano un po' tutti i territori, tanti comuni e questa è una nota di grande prestigio perché sì, è vero come diceva Pierpaolo Pocanzi noi siamo più soggetti ad organizzare manifestazioni, festival o semplici concerti canori nei periodi estivi ma effettivamente i nostri territori ci consentono di poter promuovere le bellezze naturali dei paesaggi dove viviamo anche nel periodo invernale ed è questo probabilmente che Alica riesce a fare quindi un ringraziamento mio personale anche semplicemente per questo oltre al fatto di averci dato l'opportunità a noi come amministrazione comunale di merito questa amministrazione per il primo anno di ospitare Alica Festival con un piccolo sacrificio economico perché effettivamente va sottolineato questo noi non abbiamo fatto un grosso sacrificio economico perché abbiamo voluto supportare per come era necessario e secondo le esigenze contribuendo alle spese che ci sono da fare ma avendo una serata a merito direi ottima come noto anche negli altri comuni quindi anche un mio applauso personale della nostra amministrazione ma credo un po' di tutte per la scelta degli eventi perché denotano anche una certa professionalità vedo dei nomi noti e dei gruppi noti che comunque tendono a girare nel nostro territorio e a divertire perché poi quello è il popolo effettivamente si può aggiungere poco si può aggiungere poco io ci tenevo ad essere presente perché perché volevo ringraziarti personalmente per averci dato questa opportunità per essere riuscito ad inserirti anche all'interno dell'amministrazione comunale di merito e forse le amministrazioni non sono tante Pierpaolo quelle che hanno hanno aderito tutti e questo è un gran vantaggio perché credo che proprio dal lavoro di rete delle amministrazioni può nascere un festival che può andare solo a migliorare negli anni coinvolgendo magari più gruppi, più serate eccetera però riuscire a fare quello che tu hai fatto Silvio nel giro di poco tempo a lietare i nostri quartieri, le nostre zone, i nostri comuni per un mese intero è sicuramente un vantaggio per tutti l'appello che io faccio o quello che vorrei esprimere oggi è un po' questo cerchiamo di godere un po' tutti delle varie manifestazioni e degli eventi con un interscambio nel senso è presentato oggi la data e l'ufficialità del calendario cerchiamo di essere presenti nei vari territori perché la scelta anche delle diverse date ci consente di poterlo fare tanto da vivere a pieno gli sforzi economici e di lavoro che ci sono stati da parte di tutti noi quindi visitiamo i nostri territori cerchiamo di essere presenti perché per esempio nella tappa che ci sarà a merito così come immagino negli altri comuni si va ad inserire tu lo riporti fedelmente all'interno di una notte magica meritese quindi si usufruirà dello spettacolo musicale dei Cumelka a partire dalle 22.30 ma credo che slitteremo alle 23 perché questo sarà, credo, è fisiologico però inserito in un contesto di una serata ampia, bella, ricca di degustazioni che io amo promuovere e che darà molto al territorio sia meritese che dei comuni limitrofi quindi grazie ancora, grazie alle altre amministrazioni perché dal lavoro e dagli sforzi di tutti e anche dai bilanci comunali un po' di tutti perché dobbiamo dircelo Pierpaolo, Rocco che nasce un po' l'organizzazione o la cooperazione in eventi di tale portata quindi grazie a te Grazie, aggiungo questa piccola cosa per l'appunto tutte le amministrazioni comunali che io ringrazio hanno collaborato nella realizzazione di questo festival con il loro sostegno, chi economico, chi in natura e quindi logistico e comunque con un investimento che per i comuni oggi sicuramente non è facile visto che è uno sforzo abbastanza importante ma che per la cultura sono felice si possa fare ancora Rocco Ermidio, comune di Condofuri Sì, sì, due parole ecco velocemente anche perché chi mi ha preceduto ha già abbastanza spiegato un po' tutto ecco, innanzitutto volevo ringraziare Silvio per l'organizzazione dell'evento la quarta edizione che l'organizza ecco, con grande piacere e grande soddisfazione anche per gli anni passati Pierpaolo per l'intervento perché ha accolto perfettamente anche il punto riguardante il finanziamento regionale quindi la portata che diventa sempre di più e più grande del festival dell'Alica ovviamente a Patrizia mi consentito di ringraziare particolarmente perché veramente ha spiegato che l'Unione può far fare cose veramente grandi per il nostro territorio perché spesso si parla del nostro territorio di comuni separati, divisi ognuno con la propria politica quando ci uniamo siamo veramente grandi e possiamo veramente fare le cose in grande ringrazio a Mimmo come vice sindaco del Comune di Merito che ci ospita anche qui per la conferenza grande amico tra l'altro che ci conosciamo da parecchio tempo e poi l'unica cosa volevo dire ecco, prendo spunto anche da quello che ha scritto credo Silvio qui, aggregare l'Alica a Greca a Greca e riscoprire quei borghi e quei posti che veramente hanno un sapore unico delle tradizioni calabrese e delle tradizioni dell'area grecanica che in nessun'altra parte si riescono a trovare quindi solo questo volevo dire a nome dell'amministrazione ovviamente comunale di Condofuri che porta anche i saluti del sindaco che purtroppo stamattina per altri impegni non è potuto essere qui ma mi ha delegato e con piacere ha accettato questa delega ringraziamo e aderiremo sempre con voi volentieri anche dal punto di vista economico di aiuti e di risorse anche per il prossimo anno quindi colgo subito l'occasione ecco dell'iniziativa che ha lanciato Pierpaolo ecco di questo sassolino lanciato da Pierpaolo che per il prossimo anno 2017 noi siamo già pronti anche se il nostro mandato scaderà diciamo a ottobre ma fino a ottobre siamo pronti a dare tutto quello che è possibile per realizzare c'è il semestre aggiuntivo sempre se non si vota a settembre-ottobre anche per le politiche quindi saremo disponibili a dare tutto il contributo necessario per la realizzazione del prossimo anche del prossimo evento tra l'altro ecco voglio dire anche che appunto come ha detto anche Patrizia che spesso si riescono a far incastrare sia questo festival con eventi anche organizzati dalle varie amministrazioni comunali dei vari comuni e tant'è vero che abbiamo iniziato come ha detto anche Silvio con i mercatini lì a Condofuri mercatini di Natale dell'area grecanica che è stato un bellissimo evento con molto partecipato con appunto all'interno anche il concerto dei gioia popolare lì a Condofuri che veramente ha riscosso parecchio successo quindi una bellissima sinergia che spero che continui anche negli anni e spero io mi auguro anche con Silvio perché dopo quattro anni posso dire che il lavoro è stato veramente ottimo e mi auguro che continuerà anche con questo tipo di lavoro e di iniziative per il festival dell'Alica grazie grazie mille sono passati quattro anni per me il saluto del vice sindaco del comune di Melito che avevo tralasciato per passare a Condofuri ma dicendo volentieri la parola visto che si è andato conclude grazie a tutti quanti c'è da aggiungere poco avete detto tanto e avete detto bene noi come amministrazione diceva bene anche Patrizia prima non possiamo essere che orgogliosi e contenti nel far parte di un'esperienza così significativa e come ricordava bene il sindaco di Rugudino che consigliere della città metropolitana Pierpaolo vede coinvolte tutti i comuni e le realtà dell'area grecanica e questo deve essere per noi un nuovo modo anche di ragionare perché ci deve anche aiutare a migliorarci nello stare assieme perché dobbiamo condividere tutto quello che è possibile come area grecanica perché sappiamo bene che è un'area che vive tante vicissitudini che è un'area però che ha tante peculiarità sia a livello culturale che di tradizione che di tante cose e che ci deve portare a tutti quanti a ragionare insieme perché soltanto insieme le amministrazioni potranno far sì che quest'area ancora riesca a avere la speranza e voi siete un esempio positivo vi ringraziamo per questo perché come nel vostro settore avete dedicato spazio, amore e passione così anche le amministrazioni dovranno cooperare e collaborare per far sì che questo territorio risplende per come è giusto che sia io non posso che augurare a voi tutti a noi stessi e quindi anche a tutte le amministrazioni un profigo e buon intenso lavoro con la speranza che questa iniziativa possa soltanto avere un miglioramento nel corso del tempo e possa vedere tutti noi altri attori, protagonisti insieme a voi per dare all'area grecanica una edizione e una manifestazione di grande rilievo grazie grazie mille e se prima di concludere c'è qualche domanda da parte dei colleghi giornalisti altrimenti ci avviamo alla conclusione siamo stati esaustivi perfetto semplicemente dicendo questo un invito a seguire anche sui social e sul web di vivere intanto sul territorio il festival ma di seguire le nostre attività su www.alicafestival.it e poi su facebook twitter instagram youtube siamo un po' dovunque ce n'è veramente per tutti grazie mille e buon festival grazie